Andrea Lucchetta, a Piacenza insegnare pallavolo, però la pallavolo maschile potrebbe sparire dalla città? È un problema di Molinaroli, è un problema della città, è un problema dei tifosi, è un problema dei lupi che assiepiano il palabanca, è un problema della pallavolo, pallavolo che comunque è in grave difficoltà. La pallavolo che però vive nelle piazze, vive con uno spirito diverso, vive a livello giovanile e se non radichi la base, se non riesci ad allargare la base di questa piramide, lavorando bene sul territorio, avendo la possibilità di fare in modo che la squadra sia non solo della città ma soprattutto della provincia e perché no anche della regione, debba comunque in ogni caso passare attraverso questi tipi di meccanismi, un campione per amico a banca generale dà questi tipi di opportunità di dilagare nel territorio con tappe che danno l'opportunità di fare festa, divertimento, gioia, condividere dalla base a un vertice che si spera ovviamente per tutti quanti noi, dopo la rebecchina meccanica a presenza e la famiglia Circello che ha dato di sì a un nuovo campionato, ci sia anche quello venite di Molinaroli che magari intinerante se ne vada a giocare un po' a Bologna, un po' a Milano, un po' a Ferrara e a Piacenza?